Balla raga dal vostro Zedcastle, benvenuti alle video recensioni di Il Trono del Re qui su Lega Nerd. Come prima cosa vi ricordo tutti quanti di iscrivervi al canale YouTube di Lega Nerd e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche per i nostri contenuti video, ok? Il fumetto di cui vi parlo oggi è The Sheriff of Babylon, Tom King e Mitz Gerrardz. Boom! Allora, torna finalmente disponibile The Sheriff of Babylon, il fumetto capolavoro di Tom King e Mitz Gerrardz, uscito tra il 2015 e il 2016 in America, poi arrivato in Italia nel 2017 con R.V.Lion e per lungo tempo rimasto indisponibile per la tristezza di tutti quanti noi. Ci pensa Panini a riportare la serie Vertigo in un volume completo, e non potremmo esserne che felici. The Sheriff of Babylon ci porta indietro nel tempo. Nel 2004 in Iraq, a Baghdad, nel pieno dell'invasione americana, conseguenza della guerra al terrore post-11 settembre dopo la caduta del regime di Saddam Hussein. Christopher Henry è un ex poliziotto che ha deciso di trasferirsi in Iraq per addestrare nuove forze di polizia nazionale in quello che però era un paese diviso, distrutto dalla confusione e profondamente anti-americano. Però se è vero che da un lato il regime di Saddam è stato sanguinoso e violento, dall'altro il paese versava in quegli anni in una condizione di equilibrio, tra virgolette, che impediva il sangue di scorrere letteralmente per le strade. Ma ci sono comunque altri due protagonisti su cui ruota tutta la vicenda, ovvero Sofia, anzi Safia, come la regina sposa del profeta Maometto, membro del consiglio direttivo di rifondazione dello Stato iracheno, cresciuta in America e poi ritornata in Iraq dopo la caduta di Saddam Hussein, abilissima diplomatica, donna straordinariamente forte, e poi Nasir, poliziotto sciita del regime caduto di Saddam Hussein, abilissimo investigatore ma piegato da una tragedia familiare incredibile, ovvero la perdita delle tre figlie durante il conflitto. Cosa comune a questi tre? Beh, molto semplice. L'omicidio a sangue freddo di una delle reclute addestrate da Christopher e del successivo tentativo di insabbiamento, tanto che sarà assassinata anche la sua intera famiglia. I tre persone completamente diverse, con lealtà riposte in altrettante realtà diverse, se vogliamo essere sinceri, si ritroveranno a collaborare in un complesso giallo, thriller, con atmosfere quasi spy, che coinvolge un po' tutti, terroristi vicino ad Al-Qaeda, servizi segreti, ovviamente CIA in testa, e i segreti di una popolazione che alla fine l'unico desiderio che ha è quello di poter ottenere la libertà. Ne nasce un complesso intreccio narrativo estremamente appassionante che ci permette di scoprire alcune verità che nei telegiornali e nei documentari ci hanno mai raccontato apertamente. Il caos, la violenza, l'attività americana nella cosiddetta zona verde e gli intrighi politici e spionistici si fondono con un racconto dall'umanità realmente sorprendente. I personaggi di Sharif of Babylon, sia i protagonisti che i comprimari, tutti incredibilmente caratterizzati, peraltro, non sono personaggi da film opportunamente direzionati su binari prestabiliti. Anzi, attraverso la vicenda mostrano tutte le proprie fragilità, i tormenti, raccontandosi anche con singole espressioni e raccontando anche tramite le cose non dette. Questa è una figata. Assisteremo al dramma di Safia, una donna fortissima piegata tuttavia dal dolore del non poter esprimere la propria maternità. La storia di Nasir poi è dura in assoluto. E poi c'è Christopher Ryan, l'unico americano a cui sembra realmente fregare qualcosa degli uomini e delle donne irachene. La forza di Sharif of Babylon sta anche nella veridicità del racconto. Tom King, prima di diventare uno dei più affermati autori di fumetti attuali del comicdom americano, è stato agente operativo sul campo in Iraq, per la CIA proprio, al punto che la stessa agenzia ha supervisionato quest'opera per verificare che non ci fossero contenuti che andassero a toccare informazioni o dati sensibili. E poi vabbè, Mitch Gerads, ragazzi, si occupa dei disegni e dei colori, fa un lavoro incredibile. Un'alchimia perfetta con Tom King, ma veramente Gerads è sensazionale nel catturare i volti, i dettagli, dei particolari urbani e tecnici, per esempio delle facilities ai quartieri di Baghdad, agli equipaggiamenti militari, fino a quella sensazione resa perfettamente, tra l'altro, di oppressione e calura dovuta al deserto. Baghdad è soffocante in tutti i sensi, per i controlli militari e per il sole che sembra proprio calare come una spada sulla testa delle persone. Gerads gioca quindi su due palette di colori differenti, la prima giallo-ocra per gli esterni, il sole coccente, la seconda più sul blu, sul grigio per mostrare le celle, addirittura gli obitori. Un gioiello assoluto per quanto mi riguarda, un capolavoro di storytelling, grazie anche ad un ritmo delle vignette davvero entusiasmante, intervallato da frequenti blocchi neri con onomatopee, orari, luoghi, eccetera, che danno proprio un taglio cinematografico al tutto. Insomma, chi è il vero sceriffo di Babilonia? Beh, se prima avevate la scusa della difficile reperibilità del titolo, adesso, con questa edizione completa di Panini, non potete sbagliare. Recuperate questo gioiello di non arte, veramente uno degli ultimi e più bei titoli della cara vecchia a vertigo DC Comics degli ultimi anni. 32 euro, 304 pagine. Si è parlato anche di un sequel, ma ormai sono passati un bel po' di anni dalle dichiarazioni di Tom King e noi intanto ci facciamo bastare questo. The Sheriff of Babylon, Tom King, Mitch Gerads, super approvato dal Trono del Re. Grazie per la visione!